il cambio non è uno dei miei supporti però in pratica cercare di la rotazione da questo dito qua e quindi frena la palla le dita che comunque danno più velocità della palla sono queste due quindi togliere l'indice e questo di questo deve essere solo la parte esterna del dito poi comunque questi qua fanno un poco iscriviti al canale iscriviti al canale